Malumori in forza Italia dell'Aquila dopo la presidenza del Consiglio regionale a Lorenzo Sospiri dal momento che in prima battuta era stato indicato come assessore. L'inizio per la maggioranza di centrodestra quindi in regione non è dei più soft e più sereni. Primo colpo di scena nell'elezione del presidente, appunto tutti pensavano che sarebbe stato il forzista Sant'Angelo che nel collegio provinciale alle regionali ha incassato ben 10.000 voti. Poi l'indicazione del futuro capogruppo di Fratelli d'Italia Massimo Verrecchia che ha indicato Sospiri, confermato alla quarta votazione senza appoggio delle opposizioni. L'inghippo sta nel fatto che un'ora prima dopo una riunione del centrodestra Sospiri era designato assessore Sant'Angelo presidente e sono saltati letteralmente dalla sedia il coordinatore cittadino Stefano Morelli e soprattutto il vice coordinatore Giorgio De Matteis che non le ha mandate a dire ieri. Oggi però i due non hanno ritenuto di rilasciare dichiarazioni ufficiali anche se ieri appunto il loro nervosismo e qualche parola di troppo di De Matteis non sono sfuggiti a nessuno ed era più che palese l'insoddisfazione. Insomma in Forza Italia ora il mal di pancia è noto anche perché c'è un altro fatto. Ieri non è stato nominato il sottosegretario che doveva essere Daniele Damario. Il presidente Marco Marsilio che può farlo in qualsiasi momento starebbe temporeggiando perché incombe anche qui il malumore della Lega invece che vorrebbe tenere per sé questa casella che avrebbe fatto sapere di non essere intenzionata a votare qualora ieri sarebbe arrivata questa nomina senza sedersi prima ad un tavolo per una riunione. Insomma dopo settimane calde il dado ancora non è tratto nella sua totalità.